Lo stacco, molto veloce l'indice Nord, fro all'attacco di Otero Caffa, all'esterno è veloce anche Master PCC, poi Napoleone Lanza all'argo, l'indice in vantaggio, Master P che si presenta, poi Otero, Old Fashion, Napoleone all'argo, seguito da Obama di cielo, ancora nel griff discosto Ossimo Rogette, sfila Master PCC, 13,9 il lancio, adesso si va verso il completamento dei primi 400 metri, 400 iniziali coperti da Master P in 29, lo segue l'indice Nord, fro all'attacco, Otero Caffa, Napoleone all'argo, Poi Old Fashion Club, Obama di cielo all'esterno, Neil Griff, infine Ossimo Rogette, 44 per i primi 600 metri Barbara Nenzulli leva i tappi a Master P a metà della retta opposta alle tribune, Master P va via di buona lena, ora si va verso il completamento di metà gara, intanto ha sbagliato Obama di cielo, 800 iniziali in 58,5, 14,5 da 600 agli 800 Numero 3, Ossimo Rogette, squalificato, numero 4, Obama di cielo, squalificato Va su Master P e C, primo chilometro in 1,13, l'indice Nord, fro sopra avanza Master P, numero 8, Master P e C, squalificato E allora l'indice in vantaggio, Napoleone nella sua scia, mancano 400, numero 2, Otero Caffa, squalificato L'indice in vantaggio, Napoleone lo segue da vicino, poi Old Fashion Club, O'Neill Griff, Napoleone lascia la scia di l'indice Nord, fro a 2,50 dalla conclusione, prova l'attacco, l'indice Nord cerca la difesa, Napoleone che prova l'aggancio, l'indice si difende, Napoleone che attacca, guadagna qualcosina, l'indice che si difende ancora, Napoleone Numero 1, Old Fashion Club, squalificato Il rivale è sul palo, Napoleone, l'indice Eonil Griff, ma che fatica 1,57,8 con oltre un chilometro all'esterno aria in faccia e poi un energico arrivo al termine del quale è riuscito a indurre alla resa un valorosissimo l'indice Nord, fro Rivisto in gran bell'assetto quest'oggi, Napoleone stringe i denti e alla fine riesce a venire a capo del rivale di mezza lunghezza scarsa con Marcello Di Nicola Per i colori della scuderia Deschamps-Gon, il raddoppio per Marcello Di Nicola, il tempo al chilometro intorno all'1,13,5 La quota? 1,37 Grazie 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 Grazie